finito di dire che lo stella rossa è una squadra da serie B pensate ancora che sia una squadra da serie B oppure che non dovevamo sottovalutarla o che non l'abbiamo sottovalutata non bastava la concentrazione cioè questo è un gioco non hanno solo la storia non hanno solo vinto una Champions giocano bene anche ora il campionato sarebbe dal quinto o sesto posto e nonostante questo ci siamo presentati con Krunic, Dalot e Mity cioè fate un po' voi cioè lì ti guardi questi giocatori e dici ah ok finalmente siamo passati noi a differenza di Krunic siamo ancora in Europa quindi Stankovic Stankovic valla a prendere va Stankovic dai tira sto calcio d'angolo tira sto calcio d'angolo arbitra già fischiato è tutto finito siamo passati però avete visto che sono forti così tutti dov'è il Milan di prima? fate via che non ci siano i tifosi perché tanto è quello il problema a quanto pare ci sono i tifosi e voi siete un po' nervosi non ci sono giocati benissimo contro la Roma non voglio vedere la stessa cosa dell'andata qui voglio una vera partita giocata bene vita perché da un po' che stiamo facendo partitacce la scorsa l'abbiamo persa contro lo Spezia abbiamo perso pareggiata sempre contro lo Stierla Rossa e ora pareggiata già da quattro partite che non riusciamo a vincere aiutateci vi prego aiutateci alzate le mani al cielo per farci rivincere Donna Roma ci ha salvati un'altra volta per tante volte soprattutto quella sulla linea cioè lì io svenivo mentre Romagnoli scandaloso doveva andare in attacco per fare gol per riprendere la fiducia dei tifosi ma non è così comunque sia siamo qualificati lasciatemi in pace lasciatemi un piace e iscrivetevi al canale bella